La sezione Avis di Valle Gioliti, comune di Villa Mirolio, una delle più attive della provincia di Alessandria, ha festeggiato i 35 anni di vita, domenica 6 maggio. Il momento culminante è stata la celebrazione religiosa nella splendida cornice della chiesa cinquecentesca di Santa Liberata a Villa Mirolio, luogo di culto restaurato qualche anno fa negli interni anche con un consolidamento statico e ora sarebbe necessario trovare ad intervenire alla facciata del tetto perché è veramente pregevole. Qui la cerimonia animata dalla corale La Friacco di Gabbiano è stata celebrata dal parroco di Villa Mirolio, il canonico Don Davide Mussone, che ha sottolineato l'importanza della donazione del sangue perché ha detto il sangue è vita. Poi, dopo il ricordo dei soci avvisini che non ci sono più, si sono susseguiti gli interventi del presidente della sezione Gianni Brusa, del sindaco Villa Mirolio Paolo Monchietto, del sessore regionale Gianna Pentanero, del nuovo vicepresidente dell'Avis provinciale di Alessandria Fece Sassone. Alla cerimonia rappresenti anche i sindaci di Ciarina Aldovisca e di Gabbiano Domenico Priora. Al termine i soci sono poi spostati al lago di Codana a Montiglio Monferrato per un momento conviviale come tradizione dell'associazione e per l'attribuzione delle varie benemerenze.